In questo libro ci sono tante cose. La storia di Angelini raccontarla in pillole diventa difficile. Però un episodio ve lo racconto perché riguarda un po' questa città. Nel 1902 si sfidarono al duello il segretario comunale del comune di Frosinone e un cittadino, per così dire lavare con il sangue qualcosa che era stato detto, quindi una parola offensiva. La mattina successiva si trovarono sul luogo e il dottor Angelini dovette assistere a questo duello alla sciabola. Iniziò il duello di primo mattino e a un certo punto il segretario Antonio Duriziani venne trafitto da una sciabolana alla mano e il dottor Angelini lo portò in ospedale perché allora il medico condotto deve assistere e lo operò alla mano perché era stata recisa l'arteria radiale e i tendini. Dopo tre mesi riacquistò completamente l'uso del braccio. Questo è uno degli esempi della grande scienza di Arnaldo Angelini. Quella che è stata poi l'opera di dottor Angelini è ormai consagrata all'interno di questo testo, di questo libro che oggi viene portato avanti e soprattutto viene messa a disposizione di quelle che sono le generazioni del presente, non soltanto le generazioni del futuro. Dalla lettura di alcuni brani di questo testo viene fuori che c'è la possibilità ancora oggi di rimboccarsi le maniche a favore di quello che è il concetto di coesione sociale. Chi ha di più deve dare di più. È quella che noi spesso ricordiamo anche in serie di consiglio comunale, la parabola dei talenti. Chi ha cinque talenti ne deve reinvestire cinque perché non sono i suoi, perché gli vengono donati in modo tale che vengano reimpiegati. Chi ne ha di meno di talenti probabilmente è anche destinato a impiegarne di meno. Il dottor Angelini sicuramente aveva il talento dell'uomo della grande professionalità ma aveva anche il talento dell'uomo di grande valore di coscienza, di grande valore etico e morale tant'è che oggi due comuni importanti ne vanno a celebrare la memoria. Quindi questa sia una testimonianza per i ragazzi non del domani ma del nostro presente perché loro devono rigenerare e soprattutto sostituire quella che è la classe dirigente. Abbiamo avuto modo di conoscere le qualità di un nostro concittadino che si è fatto onore qui a Frosinone che quindi unisce le due città, le unisce in una qualità che noi dovremmo portare ad esempio a modello anche dei nostri giovani e dei nostri concittadini. Si può fare molto per gli altri, si può fare molto in un settore delicato come quello della medicina si può fare molto per creare coesione sociale e identità. Nei tempi di crisi nei quali siamo chiamati a vivere ed amministrare gli esempi positivi aiutano a vivere meglio e dare delle indicazioni concrete anche nel modo con cui amministrare. Quindi io ringrazio la città di Frosinone, ringrazio gli organizzatori, ringrazio l'autore del libro, ringrazio il sindaco perché questa è stata un'occasione di conoscenza reciproca molto utile compresa anche la visita del vostro bel museo con l'antefissa che insomma testimonia la vicinanza anche culturale delle nostre città.